ciao questo è il solito video che faccio sui sui film che riesco a andare a vedere che mi sono andato a vedere visto che che è uscito da poco al cinema mi sono andato a vedere twister che è uscito mercoledì 17 luglio di quest'anno che da qualche giorno fa era già disponibile al cinema ho voluto vedere proprio twister che il solito film di animazione avventura drammatico che dura anche quasi due ore 1 e 55 di film che il regista a parte della regia di questo lì di questo lì isaac gung che da parte mia mi ha anche piaciuto che più che altro parlava di come si dice che la trama proprio delle delle film che c'è questa che di cooper da ragazza ha cercato ha cercato con un gruppo di amici di trovare una formula chimica che imbrigliasse la devastante la devastante forza del tornado che le cose non sono andate bene ed ora svolge il suo lavoro di mette meteorologa dietro le rassicurati e mua di un edificio edificio new yorkese che quando dal dalle recente passato giunge un amico per cercare di coinvolgere la tornare in azione sul campo e si si lasciate sul campo e si lascia tentare che intorno e incontrerà sul ca sul suo cammino hotel e che con i suoi con i suoi accogliti va a caccia di tornato per esibire le proprie gesta su youtube che più che altro ma è la trama in sé e a questa qua che a chi piace magari a chi piace magari vedere persone come si dice essendo magari un film di di avventura e sicuramente questo capo piacere vedere queste persone in mezzo magari al tornato come si possono comportare magari la gente appena vede questo tornato e i danni che poche i danni che può magari creare e su e le sue magari effetti ma è devastanti proprio proprio di un tornato che che a me magari era piaciuto che l'ho voluto andarmelo a vedere che che adesso morai che ho visto che se vai al cinema in questo periodo ci sono degli degli sconti però l'ho voluto andarmelo andarmelo a vedere che più che altro e ha concentrato su che che te che che studia i percorsi degli uragani al riparo nel suo ufficino di new york e di new york city viene spinta a tornare in campo dal suo amico jb per tentare un innovativo sistema di tracciamento che il suo percorso incrociato incrociato incrocia quello di tila e uomens che una affascinante e pericolosa su per stare dei social dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo più sono pericolosi meglio è che più che altro morai registra tutto per mettere i video magari su youtube che l'intensificarsi della stagione delle tempeste si scatenano fenomeni ma rete e rificati mai visti prima e che questo tila e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molte molteplici sistemi temporale schi che come vergono l'oklaoma centrale e che che metteranno ad ora prova la loro sopravvivenza che si ritrovano mai dentro a questi questo organo che anche se sembra è un film d'azione avventura sicuramente magari anche se non è il mio genere ho visto che questi tipo di film questo tipo di film mi è piaciuto dopo può anche andare anche a gusti però sicuramente magari confronto ad altri questo qua di twist è uno di quei film e magari da 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 consigliare anche se due quasi due ore 1 e 55 di film però merita a meno di essere guardato una volta che confronto mai ad altri film magari americani così sicuramente mai è uno di quelli che sicuramente merita che essendo che come paese di produzione e l'america degli stati uniti che qua qua in italia è stato distribuito dalla warner boss italia che come al solito vi lascio tutto sotto in descrizione come faccio come faccio di solito che vi lascio il video trailer il cast degli attori e anche la trama e logicamente magari si riesco a trovare magari qualche altra informazione magari più trovate tutto in descrizione che più che altro la trama di questo film è questo qua che visto che ho andato direttamente al cinema guardarlo gli volevo dedicare questo video e portarlo portarlo sul mio sul mio canale e niente quello che potevo dire su questo film l'ho già detta massimo trovate tutto sotto in descrizione come ho detto prima a massimo ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao